Nel nostro paese la cultura, anzi lo spettacolo è ritenuto una cosa quasi aleatoria, frivola una cosa un di più. La cultura in generale, la cultura è fatta anche di spettacolo, il cinema fa cultura, il balletto fa cultura, il teatro fa bravo. Oggi appunto c'è grande tristezza, molta rabbia, molta tristezza anche in tutti coloro, non solo che fanno gli artisti, ma soprattutto ai proprietari dei teatri, chi lavora nei teatri, chi lavora nei cinema, perché sono stati chiusi. Chiusi tutti i teatri, il cinema è possibile, l'ospedale al cinema deve finire il cinema, non è possibile. Non è che stiamo parlando, c'è la sanificazione di imprenditori che si sono suicidati.